Piove? No, è una bella giornata. Allora perché mi sento così male? Che cosa ti senti? Il tuo fratello deve fare un altro figlio. Ha appena avuto il primo. Non basta uno. Aiutami a convincerlo, se ne lo dico io è peggio. Bisogna fare almeno due figli. Perché se te ne vuole uno almeno hai l'altro. Ristare senza figli è la cosa più atroce. Taglia. Taglia, taglia. Così poi ti do mille lire come guarderei bambina.